Stiamo vincendo! Mi servono munizioni! Ho venito i colpi! Devo ricaricare! Lancio una granata! Tiro una granata! Mi servono munizioni! Non si investi in posizione! Venivolo spia in attesa! Mezzo in volo! Ricognizioni aeree in corso! Approvvigionamento pronto a lancio! Compartamento Azon pronto! Compartamento Azon in corso! Volo di ricognizione concluso! Approvvigionamento in arrivo! Proteggere la zona di Lasco! Compartamento nemico! A riparo! Lancia fiamme pronto! Velo di ricognito! Venivolo spia nemico! Compartamento nemico! A riparo! A riparo! Lancio una granata! A riparo! A riparo! A riparo! A riparo! A riparo! Improvvigionamento posto! Segnalare la zona di lancio! Compartamento! Compartamento Azon pronto! Approvvigionamento in arrivo! Proteggere la zona di Lancio! Volo di ricognizione concluso! Fuoco di contraerea iniziato! Controlliamo i sedi! A riparo! A riparo!